Telespettatrici, telespettatori di Riosoni TV, benvenuti insieme a noi al Teatro della Fortuna di Fano, teatro, scusate la ripetizione, della manifestazione Circonomia, il festival dell'economia circolare e della transizione ecologica. Prima volta che questa manifestazione approda Fano, è una prima volta importante perché è inserita nell'ambito della settimana fanese di Pesaro, capitale della cultura 2024. Sapete che tutti i comuni avranno il loro spazio in questo anno e questa è la settimana di Fano. Seguiremo per voi un convegno decisamente interessante, rapporto nazionale e regionale sulla transizione ecologica. Le marche sono sì al secondo posto per quel che riguarda una serie di indicatori di qualità per quel che riguarda l'economia circolare, il riutilizzo dei rifiuti ma anche il poco consumo di suolo, insomma l'attenzione all'ambiente. Devo dire che non è che nelle marche vada tutto bene perché le problematiche sono tante, quindi il fatto che siamo al secondo posto in Italia mi lascia presumere che comunque ci siano problemi abbastanza diffusi in tante regioni purtroppo e di conseguenza occorre assolutamente mettere in evidenza quelle che sono le problematicità e le problematiche e per indicare poi alcune soluzioni. Le soluzioni possono passare per tante questioni. Siamo contenti della risposta di pubblico e questo di oggi è un appuntamento molto importante perché si leggerà il report sull'economia circolare nazionale e regionale redatto appositamente dagli organizzatori per noi e vediamo che i dati scientifici assieme a tante iniziative di più vasto respiro ci aiutano a capire come culture e ambiente siano tra loro collegati e devono essere tra loro collegati. Circonomia, la manifestazione che si svolge a Fano in questi giorni nell'ambito di Pesaro Capitale della Cultura è alla sua ottava edizione, prima volta nella città della fortuna. Sì, noi siamo nati nel 2016 e fino a oggi abbiamo svolto i nostri appuntamenti prevalentemente nell'Italia del Nord e soprattutto in Piemonte. Quest'anno abbiamo deciso di sbarcare, se così si può dire, visto che Fano è una città di mare, a Fano e devo dire che il bilancio che oltre metà delle quattro giornate di Circonomia Fano possiamo fare di questa esperienza è davvero molto positivo, insomma la città si è dimostrata molto interessata ai nostri appuntamenti che sono stati tutti molto seguiti. C'è davvero qui un tessuto sia di opinione pubblica sia anche di imprese che la transizione ecologica la stanno già praticando nei loro comportamenti, nei loro stili di vita, di consumo e nelle loro scelte imprenditoriali. Abbiamo trovato anche disponibilità in molte aziende di questo territorio a sostenere economicamente il nostro festival, che non costa molto ma un po' costa e quindi davvero credo che questa sarà la prima puntata di una lunga stagione di festival dell'economia circolare e della transizione ecologica a Fano.